Allora, benvenuti alla quarta lezione e vediamo insieme i modificatori di Blender Ora, abbiamo visto l'altra volta, nelle ultime lezioni, brevemente, da un cubo che siamo in Object Mode, possiamo scalarlo, quindi selezioniamo, lo scaliamo lungo le direzioni, insomma possiamo farci un po' di mestieri possiamo andare in Edit Mode con Tab e qui possiamo lavorare con i vertici e quindi con varie opzioni di selezioni possiamo poi spostare e generare questa cosa ma adesso ci interessa in realtà partire da un cubo di base e provare a vedere alcuni modificatori importanti che vengono usati spesso i modificatori sono dei modificatori che si vedono sostanzialmente in Edit Mode ma possono essere anche cominciati ad applicare in Object Mode quindi andiamo, i modificatori sono dove c'è questo simbolo questo qui è il branch, questa qui sarebbe la chiave inglese e permette di definire tantissimi modificatori noi però, il più importante tra i modificatori che presentiamo è il Sub Surf, cioè Subdivision Surface allora, quando applichiamo il Subdivision Surface quello che si ottiene è di avere il cubo ci avviciniamo, di avere il cubo un po' smussato diciamo che la smussatura aggiunge ecco, quando il cubo originalmente aveva 4-8 vertici quindi se facciamo CTRL-Z, vedete che aveva 8 vertici se aggiungiamo il Subdivision Surface ne abbiamo 26, quindi un pochino di più e soprattutto, la cosa interessante è che possiamo anche suddividere a più cioè avere praticamente una smussatura molto più forte quindi andare a 2, vedete che si attiene già un effetto, diciamo, sferico partendo dal cubo se poi aggiungiamo anche lo Smooth qua lo Shading vedete che si ottiene già una già a questo livello, diciamo, una sfera abbastanza interessante con solo 98 vertici quindi questa, diciamo, è la sfera che risparmia più Prim per Second Life e cosa possiamo dire? niente se volete sapere la differenza fra view e render render indica come l'oggetto viene visualizzato cioè con quanti vertici viene rappresentato quando poi si fa le ply e ci conviene tenerlo sempre a 1 o a 2 diciamo quindi che 1 è un po' pochino, vedete, no? che viene un po' brutto anche con lo Smooth minimo, minimo sindacale è 2 se non avete problemi di Prim potete anche andare a 3 allora viene una sfera più che decorosa però i vertici sono passati a 386 quindi sono abbastanza di più quindi tenete sempre questi due valori uguali quindi o 2 o 3 e quindi potete ottenere, diciamo, il vostro cioè potete passare da un oggetto arrotondare andando lì tutte le superfici qui c'è da dire un sacco di cose nel senso che quando andate in Edit Mode vedete che in realtà vediamo sia la sfera che anche i punti originali da cui siamo partiti che sono, vedete, gli 8 fondamentali il discorso qui è che se a un certo punto noi siamo più che soddisfatti di come il modificatore è funzionato possiamo anche fare un Apply che però deve essere messo in Object Mode mettiamo l'Apply vedete che a questo punto abbiamo effettivamente la nostra sfera prodotta con tutti i vertici necessari ricordiamo che abbiamo fatto lo Smooth ma facciamo Ctrl Z e torniamo al nostro Tab quindi ha tolto proprio il modificatore glielo rimettiamo quindi Add Modifier Subdivision Surface lo mettiamo a 2 quindi il minimo sindacale vi ho detto vedete che in realtà un pochino di imperfezioni c'è e poi se andiamo con Tab vediamo la sfera come è fatta ora supponiamo dunque qui il concetto è che possiamo anche operare sul cubo come se fosse un cubo quindi possiamo fare un'estrusione ad esempio di una delle sue pareti vedete quindi otteniamo questo effetto cioè che praticamente vedete che fa l'effetto praticamente di fare una specie di insomma bombolone ora se il nostro obiettivo non è tanto quello di fare una cosa così bombolata ma avere soltanto il soltanto le parti quindi avere praticamente tutto dritto cioè tutto cubico però avere arrotondamento solo lungo le estremità questo lo si ottiene fondamentalmente aggiungendo degli edge loop di sostegno si dice infatti questo qui lo potevo anche ottenere prendendo questa faccia vedete e praticamente allargandola però avete notato che prima quando c'era una faccia in più in mezzo si comportava cioè era un pochino più schiacciato infatti questo è un po' il trucco cioè aggiungere praticamente degli anelli e questi anelli sono gli edge loop quindi vi insegno a fare anche gli edge loop gli edge loop come si fanno in edge mode gli edge loop sono anelli di lati cioè di questi spigoli quindi quando se io mi metto su uno degli spigoli e premo ctrl r ctrl r praticamente permette di tagliare lo spigolo in cui sono sopra e permette vedete che genera degli anelli in questo caso uno poi posso ruotare la rotellina e crearne altri e quindi avere tanti anelli in più quindi per raggiungere insomma delle cose se io premo conferma col tasto sinistro del mouse vedete che già questi anelli secondo di come sono messi sono mi alterano la struttura quindi facciamo così di nuovo ctrl r 2 e invio quindi abbiamo fatto questi due questi due anelli qui possiamo fare s e poi lungo la y verde per fare in modo tale che gli anelli si siano spostati verso verso l'estremità ok vedete questa tecnica di spostare gli anelli verso l'estremità fatta in questo modo viene chiamata ha un nome particolare in blender si dice sostenere gli spigoli cioè gli spigoli spesso sono fatti in modo tale di avere almeno cioè di non finire bruscamente come nel cubo originale ma vengono aggiunti degli altri spigoli di sostegno questi spigoli di sostegno servono normalmente per dare questi effetti che vedete qua in cui l'oggetto la capsula insomma va gradatamente praticamente verso verso l'altro quello che succede nel mondo reale se noi avessimo tolto questi quindi togliendo o mettendone altri in altro modo non avremmo ottenuto questo effetto ok tra l'altro per ottenere un effetto ancora migliore vedete basta che aggiungere questo e si ottiene un effetto estremamente realistico arrotondato però aumentano come abbiamo visto prima i vertici che sono quindi parecchi ora se questo discorso degli spigoli di sostegno li facciamo anche lungo le altre direzioni quindi andiamo qua facciamo CTRL R 2 invio e poi S e S e ovviamente andiamo lungo la direzione che sarà la X credo no la Y vedete che possiamo fare praticamente ah no questa quella l'abbiamo già fatta quindi CTRL Z non era quella direzione che volevo facciamo CTRL R su questo 2 effetti vedete che qua anche a questo punto faccio S per scalare e faccio S sulla X e vedete che scalo e quindi qua ottengo anche qua il gli spigoli fatti così e poi manca un'ultima direzione su cui fare gli spigoli li abbiamo fatta di lì di là quindi dobbiamo tagliare fondamentalmente lungo questo CTRL R 2 facciamo 2 invio S e questa volta lungo la Z allora non è lungo la E ah quindi vuol dire che l'abbiamo già fatto allora quindi qui l'abbiamo già fatto qui l'abbiamo già fatto quindi probabilmente adesso bisogna solo trovare lo spigolo lungo lo quale fare lungo la Z quindi probabilmente sarà qua CTRL R 2 invio S Z ok e quindi qui vedete che riusciamo a ottenere e qui abbiamo praticamente il cubo che declivia dolcemente lungo i tre vertici e questo quindi il primo trucco diciamo per rendere diciamo per riuscire a fare delle cose diciamo anche un pochino un pochino particolari vedete che si riescono a fare sì qui non fate questi mestieri perché poi le tangenti diventano un casino quindi selezionate semplicemente il legge loop in questo caso selezionando legge loop se lo seleziono con alt e poi tasto destro viene selezionato tutto legge loop e poi legge loop può essere spostato vedete solo legge loop quindi questo legge loop può essere spostato e qui sempre con l'alt tasto destro posso spostare quest'altro legge loop quindi posso ottenere vari effetti e poi posso comunque anche in edit mode selezionare invece i punti questi e spostarli i punti in modo tale da ottenere altri effetti qui una cosa che non abbiamo citato l'altra volta è che è possibile anche spostare i punti in maniera come si dice proportional edit e questo è molto interessante per modificare ad esempio questa per modificare quando cominciate ad avere un po' tanti punti vedete che qua siamo già arrivati a già diversi punti però se ad esempio volessi schiacciare questo per tenere un certo effetto in realtà dovrei spostare un po' di punti quindi tutti i punti vicini a questo questo lo ottengo con il proportional editing che di solito si fa sul connected quindi se io sono in proportional editing e poi sposto un punto vedete che mi sposta anche i punti vicini e quindi riesce a produrre diciamo e muove i punti che sono contenuti vedete in quel cerchio bianco che posso tra l'altro ridurlo muovendo la rotellina e quindi vedendo quali sono veramente i vertici che mi spostano e quindi posso dire che qua mi sposta solo questi vertici e ottenere praticamente degli effetti diciamo su questo però torniamo alla base ok allora sempre arrivando una cosa qui ci sono varie cose su cui potete controllare esempio qui la visibilità in edit mode se no andiamo in object mode vedete che in object mode si vede e se non lo si vuole vedere neanche in object mode si toglie questo vedete che non si vede niente ma ovviamente se noi lo facciamo diciamo che lo vogliamo vedere sia in object mode che in edit mode quindi con questi due premuti e questa è una cosa interessante poi magari facciamolo su un altro cubo quindi mettiamo qua facciamo shift A e prendiamo un un secondo cubo che è questo e qui applichiamo il modificatore che abbiamo visto di subsurf questo mettiamo sempre A2 ok andiamo in edit mode vedete che abbiamo questa cosa ecco qua tra parentesi un'altra cosa che abbiamo visto che ci sono vari trucchi per aggiungere dei punti un altro trucco è quello di usare W per aumentare i punti originali quindi questo cubo vedete che aveva 8 ma se noi facciamo W possiamo suddividerlo e vedete che ci fa una serie di tagli nel senso che qui ci dice 1 e 1 vuol dire che ha aggiunto un vertice in ogni posizione noi possiamo anche metterne di più quindi vedete che aggiungiamo la risoluzione del cubo esterno che poi viene ulteriormente modificata dal modificatore quindi cioè qui cominciano ad esserci diciamo tante possibilità questo cubo ricordiamoci sempre di fare in magari in object mode lo smooth ok così viene il cubo tutto fatto ora una cosa interessante vedete la differenza tra l'altro tra mettere degli degli edge di sostegno come ho fatto qua oppure non metterlo consente di avere delle figure diciamo più realistiche come queste però anche qua noi possiamo andare in edit mode e selezionare delle facce quindi andiamo selezionando delle facce quindi questa 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 e aggiungere questo che è quello che si chiama credo col control e si si fanno il crease o no il shift e scusate si fa shift e che è il crease e facendo il crease praticamente si si può praticamente fare in modo di appiattire il crease praticamente è l'appiattimento che si vuole fare su quelle facce e quindi ottenere questi effetti quindi dire che praticamente lungo quelle facce shift e il cubo è appiattito ma in tutte le altre direzioni invece si è rotonda si può anche fare il crease solo su delle spigoli per esempio questo shift questo shift e si allunga e quindi vedete che si ottiene una struttura che è che è praticamente tutta ammorbidita tranne che nelle zone in cui abbiamo messo il crease qui tra l'altro come ho detto se noi mettiamo 3 migliora un pochino però stiamo consumando più più vertici anche qua l'altra cosa è appunto l'apply quindi se noi facciamo apply e dobbiamo essere in object mode facciamo l'apply e quindi questo praticamente viene vedete che abbiamo ottenuto un sacco di vertici e di facce in più questo qui invece ottiene un effetto simile ah qui però il modificatore non era stato applicato quindi dobbiamo ancora fare apply e qui abbiamo anche qui un po' di vertici quindi questo qui ne ha 458 e questo qui 996 quindi dovete fare attenzione alle cose che fate allora adesso mi è difficile un po' spiegare anche tutte le le malizie che si possono fare col subsurf però già il fatto che un oggetto sia modificato così facilmente col subsurf e che comunque sia uno dei modificatori più usati dei modellatori ve la dice lunga su come venga usato ora andiamo vediamo un po' in ordine di importanza altri modificatori usati ce ne sono parecchi adesso vediamo un po' di elencarne il minimo sindacale diciamo allora un altro modificatore che ho usato molto spesso è il il mirror che qualcuno mi ha chiesto a lezione come si fa a fare un oggetto che abbia una simmetria allora facciamo un bel controllo n ok prendiamo il cubo questo oppure facciamo così per vedere un pochino meglio la simmetria lo facciamo magari su un piano ok questo qui è il piano il piano tra l'altro quando lo creiamo possiamo anche se lo vediamo ad esempio su qua possiamo dire di allinearlo alla vista e quindi quando facciamo allineamento alla vista ci diventa proprio davanti ora il concetto qua è che se questo piano rappresenta una struttura che ha una simmetria sulla x dobbiamo farne soltanto la metà di destra ad esempio e qui ci sono delle tecniche per lavorare solo sulla metà di destra e consistono beh innanzitutto occorre però che il piano abbia un po' più di vertice e questo lo facciamo facendo un w quindi ricordate comunque andiamo in edit mode facciamo w e suddividiamo e vedete che sono stati aggiunti dei vertici quindi dei vertici in più e a noi quello che ci interessa è di cancellare i vertici della parte che non ci interessa quindi se noi decidiamo di lavorare a destra facciamo a e poi selezioniamo i vertici di sinistra che sono questi e poi li cancelliamo ok quindi vedete che abbiamo una struttura che ha solo la parte di destra ora a questo punto per fare in modo tale che quello che facciamo sia specchiato anche sulla x dobbiamo aggiungere il modificatore che si chiama se troviamo mirror vedete che il mirror fa automaticamente il mirroring lungo l'asse x questo vuol dire che se adesso noi prendiamo un punto e con g lo spostiamo vedete che automaticamente l'altro punto segue lo stesso cioè fa il mirroring della cosa e analogamente anche qua quando spostiamo vedete che si riescono a costruire delle figure diciamo simmetriche adesso qui ovviamente è un esempio torniamo al cubo originale e quindi abbiamo fatto il mirroring in questo senso se noi vogliamo che il mirroring venga fatto anche lungo la adesso qui lungo la z ad esempio quindi non solo lungo la x ma anche lungo la z vedete che lui ci sono dei punti cioè possiamo lavorare soltanto su questo quadrante e vogliamo quindi vogliamo specchiarlo sulla z vedete che in realtà non si vede un granché perché questo punto tutti questi punti qua sono specchiati quindi per riuscire a lavorare dobbiamo fare un po' il mestiere che abbiamo fatto l'altra volta quindi selezioniamo la parte su cui specchiamo cancelliamo e poi a questo punto se aggiungiamo il mirroring lungo la z ah dunque il mirroring lungo la z dovrebbe fare ah beh ok errore in realtà lui stava mirorando però non è sulla z dobbiamo dirgli y perché y è effettivamente l'asse su cui lui sta facendo il mirroring in questo contesto quindi qui cosa vuol dire che se noi facciamo fare il mirroring sia lungo la x che lungo la y abbiamo fondamentalmente la possibilità vedete di creare una struttura che è simmetrica sui due assi no? e quindi lavorarci sopra se vogliamo avere un po' più di movimento possiamo fare w suddividerlo e magari suddividerlo un po' più di volte no? così e poi usare quella tecnica anche che abbiamo visto l'altra volta poco fa del proporzionale e quindi spostare praticamente intere sequenze di vertici così vedete che praticamente si ottengono delle curve e qui si possono ottenere praticamente degli effetti questo qui potrebbe essere una specie di cornice e praticamente si può lavorare producendo un po' di cosette ok? quindi il mirror per il momento lo vediamo così anche qui stessa cosa bisogna andare in object mode e poi fare l'apply ok? quindi studiate un po' anche questo modificatore e vediamo ora un altro modificatore che è quello l'array modificator che ci permette di fare tante cose interessanti allora facciamo ctrl n per ripartire da capo prendiamo questo cubo e gli mettiamo l'array modificator l'array modificator come vedete duplica il cubo quindi in realtà se vedete io ho fatto un cubo lui mi ha messo un altro in realtà l'ha attaccato da parentesi se noi il cubo invece di essere proprio un cubo normale gli avessimo messo un modificatore quindi facciamo ctrl z gli mettiamo un modificatore subsurf capite il subsurf è talmente usato che si può usare anche ctrl 2 per ottenere il subsurfing diciamo automatico a 2 quello che abbiamo visto prima ok quindi poi vabbè ricordiamoci lo smooth quindi ora supponiamo di mettere un altro modificatore array però vedete che l'array cosa fa prende il mio oggetto la sfera e la duplica intanto vedete che qui noi abbiamo due modificatori il subsurf e poi l'array e duplica la sfera lungo l'asse x vedete che c'è relative offset 1 1 vuol dire che l'oggetto viene duplicato in maniera che sia praticamente attaccato se qui però gli mettete un offset 1.1 l'oggetto viene duplicato un po' più staccato quindi potete metterlo staccato quanto volete oppure 1 e poi però potete anche dire quante copie ve ne deve generare quindi questo qua vedete che genera 5 copie della mia sfera e la cosa interessante è che posso combinare l'array per formare quindi questo chiudiamo il subsurf chiudiamo il primo array il secondo array posso farlo anziché lungo la x lo faccio 1 lungo la y e vedete che quindi posso ottenere un insieme se queste fossero poi vediamo delle uova ad esempio possiamo poi modificarle ma la cosa interessante è che una volta che c'è il modificatore l'array quindi mettiamo ancora un altro array e questa volta lo facciamo andare lungo la z e vedete che riesco a ottenere praticamente strutture complicate a piacere qui in realtà vedete che siamo già a 7.840 vertice quindi siamo già un pochino su se andiamo in edit mode vedete che in realtà l'unica cosa che posso modificare è soltanto la prima sfera questo perché se poi tocco un vertice e ho una faccia ad esempio prendiamo la faccia di sopra e poi stringiamo la faccia vedete che nel tentativo di fare delle uova riesco a tenere riesco a manipolare tutte le uova in un colpo solo perché sono tutte costruite partendo da questa dall'immagine dal template che ho fatto e questa è una cosa che su Second Life è praticamente impossibile da ottenere sull'array ci sarebbe moltissimo da dire si può usare anche per fare per fare le scale a chiocciole eccetera ma per il momento ve lo risparmio eventualmente trovate poi dei tutorial che usano degli empty ma vi risparmio gli empty comunque credo che avete capito che con gli array si possono fare delle tipo si fa una colonna e poi si fa un intero colonnato che si ripete all'infinito senza perdere troppo tempo e volendo si possono fare anche delle colonne disposte a cerchio ma come dicevo per farle disposte a cerchio al momento non ve lo spiego ora passiamo a un altro modificatore ctrl n torniamo da zero quindi object mode ctrl n reload e uno ce ne sono parecchi tra l'altro quasi tutti sono interessanti e importanti ma visto che me l'hanno anche chiesto lezioni usiamo il modificatore che chiamiamo boolean il boolean serve per fare dei fori praticamente dentro degli oggetti e come facciamo a fare dei fori ad esempio supponiamo di voler forare questo oggetto questo cubo usando una sfera quindi cosa faccio prendo una uvi sfera questa e supponiamo di voler praticamente bucare cioè far entrare la sfera dentro magari la stringiamo un poco ecco facciamo un foro proprio esattamente dentro ecco questo qui è in realtà molto facile da fare un foro di questo tipo non è proprio un foro comunque si può scolpire il cubo con la sfera aggiungendo al cubo si aggiunge il modificatore boolean che è questo e poi gli si dice che il cubo interseca la sfera vedete che adesso qui prende l'intersect ma non interessa la differenza cioè cubo meno sfera ora qui la cosa interessante è che se io vado sulla sfera e premo h per nascondere la sfera quindi h fa hid vedete che la sfera sta effettivamente poi si fa alta h per farla riapparire la sfera sta effettivamente agendo sulla geometria del cubo non si vede effettivamente che la sta modificando cosa interessante è che appunto possiamo ottenere degli effetti molto molto belli vedete così praticamente si scava il cubo oppure altacca oppure in realtà se proprio vogliamo fare proprio un foro facciamo con un cilindro quindi si crea un cilindro questo vedete che questo cilindro lo restringiamo ecco però per restringere il cilindro lo so lungo l'asse z ad esempio si fa shift z vedete che il cilindro praticamente si posso fare praticamente il cilindro che sta tutto dentro il cubo se ora se ora seleziono il mio cubo e gli dico di rimuovere il cilindro quindi così praticamente ho scavato dentro il cubo e se faccio sempre in object mode l'apply una volta che prendo il cilindro e lo sposto vedete che è rimasto dentro il cioè che il cilindro ha provocato il buco quindi in questo modo si possono fare un sacco di cose nel senso che si può fare vi ho visto anche questo oggetto si può booleano e si si può fare ad esempio l'intersezione del cubo con la sfera vedete che poi magari la sfera possiamo anche ingrandirla per vedere gli effetti H vedete che praticamente abbiamo preso solo la parte del cubo che era bucato che interagisce con la sfera e analogamente si possono anche sommare degli oggetti quindi l'altra cosa facciamo CTRL Z ok si possono prendere il cubo questo e invece che fare un intersect si può fare l'unione ok allora fare l'unione ha una cosa interessante quindi se ne facciamo l'apply magari in object mode ah no dobbiamo dirgli unione con la sfera ok poi è diventato rosso quindi facciamo l'apply ecco la cosa interessante è che a questo punto questo cubo è insieme abbiamo generato un oggetto in più ma se noi andiamo a vedere la geometria prodotta vedete che tutta la parte della sfera che è dentro il cubo non conserva i vertici quindi si risparmiano molti vertici questo ve lo dico perché alcuni di voi potrebbero dirmi qual è la differenza fra fare l'unione di oggetti e fare il join che si fa a volte che si uniscono due oggetti col join come il link di second life e la differenza è proprio questa che si riesce a ottimizzare la geometria riducendo il numero di punti quindi abbiamo visto riassumendo il modificatore subdivision surface il mirror abbiamo visto l'array e poi abbiamo visto il boolean ah un altro modificatore molto molto importante è solidify e questo vediamo che ci aiuta anche per le tangenti quindi lo facciamo per ultimo di oggi quindi prendiamo il cubo ad esempio questo ok allora se prendiamo il cubo andiamo in edit e gli togliamo una faccia quindi cancelliamo la faccia vedete che il cubo se lo portate su second life non è un gran che bello perché tutte le parti interne hanno le normali sbagliate vi ricordate che avevo fatto tutto un discorso sui normali se andiamo a vederle queste normali mentre siamo in edit mode dunque le normali dovremmo trovarle qua vedete che se vediamo i peli i peli diciamo la peluria vedete che i peli escono tutte nelle facce esterne ma internamente non esce nessun pelo questo vuol dire che se guardate questo oggetto in second life verrebbe completamente trasparente quando lo vedete dall'alto per ovviare a questo inconveniente si usa appunto questo trasformatore forse si possono anche aggiungere i trasformatori qui si aggiunge il trasformatore che si chiama solidify se noi clicchiamo solidify vengono aggiunte praticamente delle facce quindi qui si può controllare la thickness vedete che vengono aggiunte delle facce in modo tale da rendere praticamente l'oggetto solido come si dice quindi facciamo così l'oggetto è solido le normali non le vediamo ancora bene perché per vederle dobbiamo prima applicare la trasformazione quindi tab apply e poi con tab ancora vedete che ogni faccia aggiunta a questo punto ha delle praticamente escono praticamente dei capelli nella direzione giusta quindi questo oggetto qua diventa effettivamente interessante e oltretutto se a questo oggetto gli aggiungiamo anche il subsurf che abbiamo visto che si può fare anche con ctrl 2 vedete che abbiamo questo è un modo interessante per fare ad esempio una sorta di tazza o bicchiere diciamo questo semplicemente avendo applicato e poi magari gli mettiamo lo smooth e otteniamo una cosa così e abbiamo fatto praticamente un bicchiere con 226 vertici se vogliamo avere un po' più perfetto dobbiamo salire 898 vertici e c'è già un bel bicchiere ora come abbiamo visto abbiamo visto questi quindi array boolean abbiamo visto il mirror il solidify insomma vedete che qui in realtà sono solo un sottoinsieme di tutti quelli possibili quindi in realtà bisognerebbe poi fare dei corsi specifici su ognuno di questi e comunque anche quelli che vi ho fatto tipo l'array non vi ho fatto vedere tutto se andiamo se approfondissi ogni singolo modificatore in tutte le sue particolarità non finiremo il corso quindi magari se capita durante la prossima lezione ve lo farò vedere come funziona ma per il momento direi che è già più di quello che probabilmente voi riuscirete ad assorbire nella lezione di lunedì probabilmente vi ringrazio buona serata grazie a tutti